Abbiamo avuto un solo giocatore che ci ha fatto la differenza nel primo tempo, González, Nico, che è andato via 3-4 volte bene, ha creato occasioni, ha fatto bene, però la squadra non ha saputo, secondo me, reggere... Ha durato fatica oggi. Ha durato fatica molto. Devo dire la verità, l'atteggiamento del Bologna, vuoi o no, per fortuna, non ci ha fatto bene. Una vittoria così me la prendo e me la porto a casa, perché oggi abbiamo rischiato. Siamo stati anche bene in campo, tutto sommato, l'abbiamo anche pressato, l'abbiamo messo un po' in difficoltà, però negli ultimi 20 metri... Che ruolo avevi te, scusa, in campo? L'attaccante. Bene, mi parli di loro, per favore. Niente, niente, niente. Oggi devo dire che né Piontek, né tantomeno Gabriele quando è entrato, mi sono piaciuti. Gli esterni... Nico ha fatto bene, anche se sta troppo volte per terra questo ragazzo. La prima volta che lo vedi dico, amico, stai un po' più in piedi, perché sennò poi dopo... Capito. ...te prendono di petto, capito? C'è io. ci sono... Grazie a tutti.